Questo è un orto sinergico con dei bancali che abbiamo costituito quasi cinque anni fa e oggi vi vado a far vedere il lavoro che stiamo facendo adesso che è primavera. Ecco, questo è lo stato in cui si trova l'orto sinergico dopo un inverno, siamo ad aprile, quando praticamente tutto quello che abbiamo seminato, più le erbe spontanee, insieme alle piante che abbiamo lasciato per andare in fiore, qui vedete questa è una Catalogna, qui c'è un finocchio, qui c'è un'altra Catalogna e poi tutte le, vedete, veccia, i trifogli, diversi tipi di trifogli, vedete, diversi tipi di trifogli e poi c'è l'avena, tutto questo verrà sfalciato proprio in questi giorni e usato come pacciamatura che adesso vi farò vedere dall'altra parte. Grazie Grazie.